Prima di tutto di rimettere piedi in terra italiana e poi la mamma, mia mamma è stata un leone, è stata forte. L'emozione era quella, io sapevo che tornavo, perché lo sentivo, però trovarmi, ripeto, trovarmi tutte queste persone che mi danno questi attestati di affetto, mi abbracciano, mi baciano, io sto provando delle cose stupende che non avrei mai pensato di provare. Sono uomini, l'ho sempre detto, da quando sono arrivato, sono uomini speciali, hanno una passione speciale per il lavoro che fanno. Lavorano sotto traccia, in silenzio, nessuno li nomina, nessuno gli dice grazie. Per noi stanno svegli giorno e notte, ci cercano dappertutto, ci mettono l'anima e il cuore, quindi io ho ritenuto giusto ringraziarli perché devo a loro, devo anche molto ai servizi libici, perché anche i libici tramite il capitano Micaela hanno lavorato molto molto per portarmi a casa. Però io lo dovevo questo alle istituzioni, alla farnesina e a tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato. Io l'ho sempre portato con me. Io ho messo la bandiera più a est d'Europa, a Sacalin, l'isola di Sacalin, avevo il mio container, l'ufficio sopra c'era il tricolore. Quindi per me, la mia patria è la mia patria. Bella, brutta, che vada bene o male è sempre la mia patria. E quindi la devo portare sempre con me. Io la sera, quando andavo, mi buttavo nella cuccia, perché ero una cuccia, ringraziavo Dio perché ero vivo, perché avevo passato un'altra giornata ed ero vivo. I primi tempi sono stati duri perché il cervello è una macchina che parte, e quando parte, se non la tieni, io ho cercato di disciplinarmi, mi sono autodisciplinato. Ho cercato di fare delle cose che mi tenessero occupato, che non dovessi pensare, perché comunque pensavi sempre alla famiglia. Io mi preoccupavo molto per mia mamma, per mia moglie, per i miei fratelli, per tutti i familiari. E mi sono autodisciplinato, camminando la mattina, facendo ginnastica, e cercando di passare il tempo meglio possibile. Certamente c'era sempre la paura, perché quelli dall'altra parte della porta erano parecchio pericolosi. Anche il convivere con la paura di morire è stato un po' duro all'inizio, poi ho cominciato a metterlo da parte, ho cercato solo di rimanere lucido, non perdere l'estate. Mi ha emozionato, mi è venuto un gruppo in gola, mi ha emozionato, è un grande regalo. Io non mi aspettavo neanche di venire qui, proprio non l'avevo messo in conto. Una cosa del genere mi fa... avevo il gruppo in gola prima, quindi mi ha fatto estremamente piacere. Un attestato di affetto così non sapevo di meritarlo.